Il Natale non nasconde la sabbia sotto il tappeto. Nei pressi della stazione Lido Nord di Ostia, in cure e degrado, continuano a farla da padrone. Tra le zone off-limits, il parcheggio sottostante il viadotto Attico da Bacchi, in via Miraglio del Bono, conserva il suo posto di rilievo. Vestiti, plastica, bottiglie e vetri rotti sono il residuo delle notti brave di personaggi che, in preda ai fumi dell'alcol e della droga, contribuiscono a dipingere uno scenario davvero da brividi. A tre di notte qui è meglio non passarci, è meglio. La sera alle nove, nove e mezza, se rientri dal cinema e ti guardi intorno. Abbiamo visto che qui c'è addirittura una valigia, quindi si può dire che ci sono una sorta di pendolari del degrado. Sì, allora circa un annetto fa c'era un tizio che aveva i cani, aveva metto il giardinetto, aveva fatto con la tendina, tutto bello. Poi l'hanno portato via e è andata a fuoco tutto quanto. Le segnalazioni sono innumerevoli, gli interventi, spot e frammentati. Intanto l'inciviltà regna sovrana. Le segnalazioni sono state fatte ai vigili urbani. Le netteze urbane a me ormai mi conoscono. Un po' di vigili, la vigilanza, la netteza urbana che passi in mezzo alle macchine per pulire dai padroni dei cani, ma non pulire quello dei padroni, perché i padroni andrebbero indirizzati e addestrati, perché non si può che qui cammini la sera a portafortuna al calzolaio. A distanza di tempo siamo tornati nelle aree giochi limitrofe alla ferrovia. Se è possibile, la situazione è anche peggiore di come l'avevamo lasciata. I secchioni sono stracolmi di rifiuti, le panchine completamente divelte. A sentire i residenti, la responsabilità sarebbe da ricondurre a un gruppo di giovani che specialmente durante l'inverno agiscono indisturbati e si divertono a devastare tutti gli arredi. Ci sono dei ragazzi che passano le nottate a bere e a cantare. Una volta mi sono trovato che c'erano delle persone in mezzo alle macchine che facevano i loro bisogni e non gli può dire manco niente. Che ne sai questi qui? Che intenzioni c'hanno? Spostandosi nel parcheggio di Via Punta del Saraceno, la situazione non cambia. Marciapedi dissestati, bottiglie di vetro ovunque. Parlando con i residenti, quello che emerge è tanta rassegnazione. Sembra che non ci sia neanche più la voglia di dire stop al degrado. Da Ostia per Canale 10, Francesco Ferraro.